L'esposito è una rete che racchiude un po' lo spirito della partita, un pallone riconquistato a centrocampo con caparbietà con forza e poi il gol che vi ha fatto vincere. Oggi avevate preparato un po' così la partita? Sì, oggi per noi valeva doppio perché un risultato diverso avrebbe permesso alla Luanese di allungare ancora di più e quindi oggi per noi valeva doppio. Abbiamo messo tutto quello che avevamo, siamo stati perfetti, forse è la parola giusta e ce l'abbiamo fatta. Diciamo che questa vittoria non serve solo a voi ma serve un po' a tutto il campionato per rimanere ancora aperto. Sì, ma noi fondamentalmente pensiamo a noi perché il rammarico di aver perso punti contro squadre di bassa classifica comunque rimane perché poi i campionati si vincono anche con quelle squadre lì. Con la Luanese hai fatto sei punti però sono ancora davanti a loro. Questo farà strano però è la realtà dei fatti. Vista la partita di oggi è stata una partita decisamente maschia. Nel secondo tempo avete rischiato, ti abbiamo visto abbassarti a giocare un po' più il pallone. Questa mossa tattica di Mr. Bresci come ce la spieghi? È normale, loro dovevano recuperare quindi noi ce l'avevamo qualcuno acciaccato, abbiamo tirato botta, abbiamo stretto i denti e comunque era normale che loro alzassero il baricentro. Poi noi siamo stati perfetti, ti ripeto oggi e penso che più di così non potevamo fare.